Ma è proprio bello qua, quello che vuole, la tinta, proprio da quello che vuole portare alla casa, verso il capolavoro, vediamo, qua c'è veramente una casa che c'è bello, vediamo, 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 mi sembra un viso conosciuto, citofono, oh, oh, tu ragioniere, ragioniere, che scherzo questa affa, sempre le compre, le compre, a spendere i soldi, le compre, le compre, quello è finito la scuola, mio figlio è stato il migliore della classe, il massimo dei voti e ho deciso di regalare una bella macchina, bravo, bravo, perché pure io ho fatto così, mio figlio è stato promosso a scuola, gli ho regalato un bel motorino, e tu? Che costo, che costo devo regalare, ma stiamo scherzando, mio figlio è stato rimandato, la ciucciaggine proprio di ignoranza incorporata dentro di lui, rimandati l'italiano, vabbè, tu fai una bella cosa, regalaci un bel boccabolare, boccabolare, a piedi ti andare, a piedi ti vandare, boccabolare, cari ti lo prendi, e ituicy pagazione giga, mais se c'è poco arrive,